La città di Martinsicuro si conferma per il secondo anno consecutivo tra le 60 località italiane premiate con la bandiera gialla, riconoscimento assegnato dalla FIAD, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ai comuni che promuovono la mobilità sostenibile. Il sindaco Massimo Vagnoni ha colto con entusiasmo il riconoscimento, vedendolo come un incentivo per completare il progetto del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto, definito come l'ultimo miglio della strategia di mobilità dolce della città. La Regione Marche ha assegnato i lavori e a breve sarà redatto il contratto per questa importante opera, dichiarato il primo cittadino, sperando in un avvio dei lavori già dalla prossima estate. L'assessore all'ambiente Marco Bruno Cappellacci e il delegato al turismo Umberto Barcaroli hanno espresso soddisfazione per il riconoscimento, sottolineando come Martinsicuro stia procedendo nella giusta direzione per favorire un turismo ecosostenibile. Tra i progetti in cantiere spiccano i lavori per la nuova pista ciclabile sul lungomare che sarà divisa dai camminamenti pedonali e la creazione di un percorso ciclabile lungo l'argine del fiume Tronto per un costo di 270 mila euro finanziato con risorse della ciclovia adriatica. Questo percorso si collegherà direttamente al ponte ciclabile creando un corridoio verde che unirà Sentina alla zona nord di Martinsicuro. Oltre a questi si sta lavorando per la riqualificazione del tratto di passeggiata lungo il litorale da Martinsicuro a Villarosa separando gli spazi per le biciclette e pedoni al fine di garantire sicurezza e fruibilità. Il rinnovo della bandiera gialla per il 2023-2024 testimonia l'impegno continuo di Martinsicuro nel campo della sostenibilità. L'obiettivo futuro è mantenere anche la bandiera blu, segno di qualità delle acque di balneazione e di comportamenti virtuosi per la tutela ambientale.